What's going on? Ma spero una breve vacanza Forse dovremo fare una piccola deviazione Al pentagono, giusto? Non preoccuparti, è buonissimo il menù festivo della mensa militare Dicono che il sarcasmo sia un mezzo per misurare il potenziale Se fosse vero un giorno diventerai un grande uomo Prendo i bagagli Tu gli manchi molto quando non ci sei E molto presto anche noi ti mancheremo Perché questa è l'ultima volta che staremo tutti insieme Sai cosa sta per accadere? Di qualcosa Se non lo farai te ne pentirai Ti voglio bene E so che hai fatto del tuo meglio Vorrei fosse andata così Retroinquadratura memoria binaria ampliata o RIMBA Devo perfezionare l'acronimo Ho speso molto per questo procedimento Che riesce ad influire sull'ippocampo Per eliminare ricordi traumatici Non cambia il fatto che non siano mai arrivate all'aeroporto Né quello che ho fatto io per evitare di elaborare il lutto Ma Certo 611 milioni di dollari per il mio esperimento terapeutico Nessuno in grado di ragionare lo avrebbe finanziato Qual è la dichiarazione ufficiale di intenti dell'MIT? Di Generare Disseminare e preservare la conoscenza E lavorare con gli altri Perché venga applicata alle grandi sfide del mondo Sì Beh Voi Siete gli altri E per quanto segrete Le sfide che affronterete Saranno le più grandi mai viste Per di più Siete al verde Oh scusate Volevo dire eravate Da questo momento Ogni studente è parimenti beneficiario Dell'inaugurale Borsa di studio September Foundation Sarebbe a dire Tutti i vostri progetti sono approvati e finanziati Nessuna condizione Nessuna tassa Solo reimpostate il futuro Cominciando da ora Scatenate le idee Scatenate le idee Gag città